L'ingegnere che si vuole occupare della gestione del veicolo in pista deve avere delle competenze molto elevate, principalmente deve avere delle caratteristiche personali importanti, in primis l'ordine, il rigore e la capacità di analisi e di sezione dell'informazione. Mostriamo quindi in aula ciò che è possibile acquisire sulla dinamica del veicolo e come gestire la stessa per tramite dei mezzi che ci vengono forniti. Io sono qui per insegnare ai studenti di usare il nostro programma. Cerco di insegnare ai studenti non solo la tecnologia dietro, ma anche la forma che un sistema di acquisizione funziona nei tempi attuali, perché la tecnologia è molto alta al momento. Sono qui per parlare della tecnologia, ma la tecnologia del motorbike racing è molto molto collegata con il fattore di umano. Sono qui al Master d' Ingegneria della moto da corsa per mostrare agli allievi le potenzialità e gli strumenti che VI Grade può fornire. La lezione di oggi prevederà una prima fase teorica e una seconda fase pratica. Agli allievi verrà fornita la licenza di VI Bike Real Time che sarà vaida per tutta la durata del Master. Impressionante notare come la maggior parte, per non dire tutti i ragazzi iscritti al Master quest'anno, siano già nell'ambito lavorativo. Mi piace il mondo dell'esperientazione, lo faccio pure per lavoro. Io faccio simulazioni, quindi la parte inerente è appunto quella dell'analisi dei dati, dell'immagazzinamento dei dati, dell'ordine. Tante cose che ho visto oggi le ho riscontrate lavorando nel Mondiale Motocross. Ho cominciato uno stagio nella Business Unit Performance della Brembo dove mi occupo appunto di progettazione. E la mia aspirazione più grande sarebbe quella di lavorare in un ufficio tecnico di progettazione. La passione della mia vita, con le moto ci sono tutti i giorni. E tutto questo che stiamo guardando dà la possibilità di studiare e capire tutto in una forma molto molto veloce. Mostriamo agli allevi del Master quello che potrebbe essere il loro futuro professionale come ingegneri di sistema. Il mio obiettivo e il mio obiettivo è non solo di esprimere le basi, ma anche di reale l'esperienza della situazione di un ingegnero dati nel team. Sono professionisti che ti vengono a insegnare e quindi ti raccontano veramente com'è il mondo reale. Non vedo l'ora che incominciano anche visite con Pirelli o fino a maggio sarà sempre più bello di me. Ho fatto vedere un po' di che stadi di aziende, educati e anche altre. Sarebbe auspicabile trovare qua, tra i vari ragazzi, un qualche talento che voglia entrare a far parte e inserirsi nel mondo della simulazione.